Il video dei carabinieri, frutto delle intercettazioni ambientali e riprese disposte dal PM all'interno dell'abitazione, non lascia scampo alla donna straniera che maltrattava la nonnina da lei assistita, arrestata a una badante per maltrattamenti e lesioni nei confronti di un'anziana ultra novantenne, affetta da una patologia invalidante. A finire in manette una 53enne originaria dell'Est Europa, dalle intercettazioni ambientali e riprese video disposte dalla procura di nocere inferiore all'interno dell'abitazione della vittima, è stato scoperto un quadro agghiacciante. L'anziana, alle cui ridotte facoltà cognitive non le hanno consentito di riferire la caduta ai propri familiari, era costantemente soggetta a maltrattamenti da parte della propria badante convivente, che consistevano in ingiurie, come si nota dalle immagini, minacce e percosse inferti a mani nude o mediante oggetti. Le indagini che hanno preso spunto dall'attività informativa svolta dai carabinieri sono consistite nell'ascolto di persone informate sui fatti e nell'immediata esecuzione di intercettazioni ambientali e riprese video disposte dal PM proprio all'interno della casa in cui si svolgeva l'attività illecita. L'intervento dei carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni ha permesso di interrompere urgentemente le violenze compiute dall'arrestata consentendo ai militari di sorprendere l'abbadante nel compimento delle ennesime vessazioni. All'anziana sono state prestate le necessarie cure necessarie prima di essere successivamente affidata ai familiari.